Ieri su Twitter si è verificato un episodio che probabilmente a qualcuno sarà sfuggito. Pierpaolo Pretelli, il secondo classificato del GF VIP ieri, si è trovato a leggere alcuni post sul noto social e ne ha notato uno poco piacevole sul suo conto. Il commento di cui vi parliamo e che ha fatto stizzire Pierpaolo Pretelli è stato pubblicato da un profilo che ha la medesima foto di Tommaso Zorzi e lo stesso nome, ma è falso. L'account fake di Tommaso Zorzi ha scritto quanto segue. Ma quello non fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta Gregoraci? Pierpaolo Pretelli, che ha letto questo post, non si è accorto si trattasse di un profilo falaso e per tale ragione ha deciso di rispondere per le rime. Poco dopo si è reso conto che si è trattato di un errore e che il vero Tommaso Zorzi in realtà non ha mai scritto quelle parole. A quel punto Pierpaolo Pretelli ha cancellato subito quanto scritto, ma alcuni utenti del web sono riusciti comunque a far girare lo screen.